benvenuti a un nuovo video amici questo è il video della nostra vacanza una vacanza che che abbiamo desiderato molto e anche atteso tanto perché una vacanza lunga e per tanto tempo non è stato possibile farlo venite con noi in questo momento così bello per noi è anche molto importante mi piace a vedere luca ciao ma come puoi sapere che sei così ruffiato? non è ruffiato, la fa apposta ma no, non sei ruffiavissimo tu fai la bella li ticati dalla mattina alla sera anche io 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 co co le? co co le? certo certo Vai, mamma! Vai, mamma! Andiamo a lavare i piatti, vieni, vieni, guardate un po'. E' un peggio anche questo, eh? Andiamo a lavare i piatti, vieni, guardate un po'. E' bellissimo! E' bellissimo! Andiamo a lavare i piatti. Ancora? Sì? Vai! Dai, dai! Se non lo fai te, non lo fa nessuno! Ecco qua, noi stiamo allestendo il camper per fare un'uscita. Dove siete? Dove siete? Ecco qua! Ciao, saluta! Ciao! Ciao Luca! Dani ancora si sta sistemando. Andiamo a fare un giro qua intorno. Dove andiamo? Dove sei? Dove andiamo? Ciao, andiamo a Bolgheri dove ci sono i cipressi. Oddio! Li troveremo lì! Adesso facciamo questa strada che porta su a Bolgheri. Andiamo a Bolgheri? Bello, bello, bello! Qua, la culla della storia, la lingua italiana. Sì. È tutto. È tutto. Parte da qua. La culla nella storia di unasinopera. La culla è una scuola con le mie. La nostra sceglia è molto importante. La sua culla è una darita che i capelli. È tutta la culla, la culla di una condizione. Saco la culla è un'acciaio. È utile. La mia amici è un bel corpino. È un bel corpino. La mia amici. È un bel corpino. È un bel corpino. È un bel corpino. È un bel corpino. Oggi siamo qua a mangiare? Sì Cosa mangiamo? Posto in cante Sai cosa prendiamo? Abbiamo visto qua l'antipasto toscano Bello, voglio assaggiarlo Sì Tu cosa vorresti mangiare? Anche tu l'antipasto toscano? O vuoi qualcosa di... Un primo? Pasta? Taglierini? Buono Il posto è veramente bello Tipico toscano A presto è orizzaro Perfetto A presto Non si è un progetto Che vedo Non vi ho portato E ci vedo Cosa è un progetto Andiamo a fare la doccia? E' bella questa doccia fatta vero, fatti vedere un po', eccola, guarda come è bella! La nostra vacanza è finita, però è stata bella, due settimane bellissime. Dimmi un po', ti è piaciuta questa vacanza? Sì. Tanto? A vedere lo spettacolo. Lo spettacolo? Poi... Spettacolo coi tre. Andare all'area video game. Andare all'area video game. È stata una bella vacanza, ci siamo rilassati anche un pochino, avevamo bisogno. Vero papi? Eh sì sì sì. Molto convincente. Abbiamo festeggiato anche il mio compleanno. E ora andiamo a casa. Mi è piaciuto tantissimo svegliarmi alle sette del mattino, preparare il caffè a tutti. Cioè, a mamma, a papà. Sistemare tutto il disordine che c'era, assolutamente, mettere tutto in ordine, spazzare il tendalino, sopra dalle foglie, dai rami. Poi mi è piaciuto tantissimo, era molto molto divertente la stuoia sotto, che sembra che ci fosse passato i trattori tutta la Toscana. Spazzare quelli. Bellissimo quello che sto stupendo. Però la cosa che mi ha detto di più è lavare i piatti. Lavare i piatti è stata veramente una cosa che mi ha aiutato tantissimo a mantenermi in forma. Amore potete ritornare sul camper perché siamo dimenticati questo, 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 questo. Ciò vuol dire che non avete preso niente. Ho capito. È stato veramente bellissimo. Non vedo l'ora che ritorni di nuovo. Diciamo che mi rattrista un po', che non devo aspettare dodici mesi per rifare questa esperienza. Ma potresti aspettare 24. Ottobre, novembre, dicembre, giugno, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Sono dieci, devo aspettarne. Non è quello. Anzi, no. Però dai, ci sta. Papà. Ti sei riposato. Di prossimo. È troppo divertente papà, vero? Delica. Troppo. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Ci vediamo al video prossimo. Ciao. Al prossimo video.